E' stato il cortometraggio francese di Noé Grenier, Les images qui vont suivre non jamais existent, ad aggiudicarsi il premio Pesaro Nuovo Cinema della 58esima edizione del Pesaro Film Festival. Un riconoscimento assegnato dalla giuria composta dall'attore italiano Tommaso Ragno, dalla regista portoghese Rita Azevedo Gomez e dal regista spagnolo Carlos Casas. Un riconoscimento che spicca fra i tanti premi assegnati da una mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che vede il vero vincitore nell'appassionato riscontro di pubblico. Un pubblico peserese più numeroso dell'edizione 2019, ovvero l'ultima pre-covid. Un pubblico attento ad ogni sfaccettatura, dalle produzioni di nicchia ai grandi ospiti come Abel Ferrara, Giancarlo Giannini, Tommaso Ragno e Mario Martone. Abbiamo proposto tanti contenuti, tanti film, tanti incontri e devo dire che siamo stati accolti da un pubblico non solo soddisfatto, ma veramente numerosissimo, senza più il distanziamento, senza più le mascherine. Quindi è stato quello che speravamo, c'è una grandissima festa di Cina, una grandissima festa per la città, una grandissima festa per le tante persone che sono venute a Pesaro per il nostro festival. È stata una settimana di grandissima partecipazione di pubblico, di grandissima qualità della manifestazione. Un pubblico che è ritornato non solo numeroso, ma caldo, appassionato e comunque caldo era anche in generale, a parte il condizionamento dello sperimentale. Ma veramente è una edizione, credo, da ricordare e da incornisare. Quindi siamo molto felici e la conclusione con uno dei registi più importanti al mondo, premiati questa sera, penso che sarà la digna conclusione di una grande 50esima edizione. Il pubblico è accorso numeroso a tutte le proiezioni, soprattutto a quella a cui tenevo molto, con Martone in persona, un sabato pomeriggio di giugno, il teatro sperimentale per morte di un matematico napoletano, che il suo primo film è in una copia restaurata molto bella, era una sala talmente piena che lui stesso quando è entrato ci è rimasto colpito e ha ringraziato subito il pubblico che è partito un grandissimo applauso ancora prima di annunciarlo in sala. Sono molto legato a Pesaro, sono stato qui tante volte con il ROF per mettere in scena le opere di Rossini. È il Festival del Cinema di Pesaro, è un festival che è nel cuore dei cinefili di tutta Europa, di tutto il mondo si può dire. E quindi essere premiato qui, avere l'onore di una retrospettiva qui è una grande gioia, avere un applauso come quello che mi ha tributato generosamente la piazza è bellissimo.